La conferenza di questa mattina che alla Camera di Commercio ha fortissimamente voluto è per presentare alcuni bandi che riguardano svariati settori della nostra economia. Partiamo dal bando che riguarda il cratere del 2009, il primo cratere del primo terremoto, dove sono coinvolte otto comuni. Dove la Camera di Commercio aveva ancora una disponibilità di 111 mila euro del residuo del vecchio fondo del cratere, abbiamo aperto due bandi, uno per le nuove imprese e uno per la ricollocazione delle aziende con contributi a fondo perduto. Negli altri due bandi, uno riguarda l'internazionalizzazione per le mostre fiere sia in Italia che all'estero, parliamo di fiere internazionali, l'altro bando riguarda l'imprenditoria femminile e l'imprenditoria giovanile, lo start-up. Per quanto riguarda i giovani parliamo di un'età di 18-35 anni per le donne, praticamente senza età, è importante che siano imprenditori femminili con la maggioranza dei soci, in caso di società, di donne. Abbiamo anche approvato altri due bandi che apriremo a settembre, uno che riguarda l'area del nuovo cratere, i 16 comuni del cratere del 2017, e un altro bando che apriremo per la valorizzazione del turismo per quanto riguarda la regione Abruzzo, la nostra provincia. Complessivamente, questi bandi che apriamo questa mattina e quelli che faremo a settembre, parliamo di una somma di 892 mila euro di contributo, chiamiamolo così, a fondo perduto per le aziende.